Milioni di persone sono in stato di urgente necessità a causa del dilagare di conflitti in Iraq e Siria e negli altri paesi del Medio Oriente. Eppure di fronte a questo opprimente dramma umanitario, elettrocità costantemente mostrate dai media, la comunità internazionale non sembra capace di trovare risposte adeguate e i trafficanti di armi continuano a fare i loro interessi. Così il Papa, nel discorso ai partecipanti all'incontro promosso da Corunum, tra organismi caritativi e chiese locali. Davanti a questo oceano di dolore, Francesco ha chiesto di porre attenzione speciale ai più deboli e indifesi, in particolare anziani e malati, famiglie distrutte dalla violenza, ma anche ai giovani, privati dei diritti fondamentali, primo tra tutti l'istruzione. Il pensiero del Pontefice si è poi rivolto ai cristiani di quelle terre, vessati, cacciati, tenuti in prigionia e persino uccisi a causa della propria fede e la cui presenza legittima è oggi negata in nome di quel fondamentalismo violento che rivendica un'origine religiosa. L'esortazione di Bergoglio è stata perciò quella di vincere il male col bene, proseguendo sulla strada del dialogo e della comunione e della collaborazione tra i cattolici, le diverse confessioni, le istituzioni umanitarie. Nessuno può vincere di non sapere. Tutti sono consapevoli che questa guerra pesca in maniera sempre più insopportabile sulle spalle della povera gente. Occorre trovare una soluzione che non è mai quella violenta, perché la violenza crea solo nuove ferite. La